Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. La settimana scorsa nella rubrica del D20 System abbiamo nominato i colpi critici. Ho deciso quindi che questa settimana per l'arte del masteraggio era meglio soffermarsi un attimo su cosa sono i colpi critici, le loro origini, anche perché è qualcosa che non riguarda solo il regolamento di D20. Quasi tutti i giochi di ruolo che hanno una componente meccanica forte introducono in un modo o nell'altro il colpo critico, anche se chiamandolo con altri nomi. Quindi questa settimana diciamo che andiamo a fare una critica sui critici. Che gioco di parole del cazzo. Probabilmente uno dei motivi per cui oggigiorno i colpi critici sono così diffusi è, come per tantissime altre cose del mondo, un motivo puramente tradizionale. Il primo gioco a introdurre nel proprio regolamento il concetto di colpo critico fu Empire of the Petal Tron di Mohamed Baker, un gioco che fu pubblicato nel 1975 dalla TSR, la stessa casa che l'anno prima aveva pubblicato per la prima volta Dungeons & Dragons, la versione che noi oggi chiamiamo original Dungeons & Dragons. Quindi uscì l'anno dopo l'uscita del primo gioco di ruolo in assoluto. Anche se oggigiorno è praticamente sconosciuto, all'epoca il gioco ebbe un notevole successo. Fu uno dei primi giochi ad avere un universo espanso molto accuratamente descritto. E tantissimi dei primi giocatori di ruolo entrarono in contatto con la meccanica del critico. E quindi in opere successive sviluppate da quegli stessi early adopter, la meccanica fu reintrodotta. Per effetto a cascata, altri giocatori entrarono in contatto con la meccanica del critico e la utilizzarono in altre opere, in successive edizioni dei giochi, in nuovi giochi di ruolo. Iniziò ad essere utilizzata anche nei primissimi adattamenti di giochi di ruolo per computer. Fino di generazione e generazione ad arrivare nei giorni nostri dove quasi tutti i regolamenti che hanno una base meccanica prevedono una regola per il colpo critico, ogni regolamento chiamandola come preferisce fondamentalmente, ma anche moltissimi giochi per computer comprendono il colpo critico. Sia videogiochi di ruolo, sia giochi di combattimento veri e propri che non hanno nulla a che fare con il ruolismo. Quindi ogni volta che fate un colpo critico ricordatevi di ringraziare quest'uomo che è l'autore dell'edizione originale di Empire of the Petal Tron, in realtà è l'autore di Tecumel, il mondo in cui si svolge quel gioco, che in realtà è un'opera monumentale. Alcuni ritengono che Baker potrebbe essere uno dei più grandi linguisti e scrittori dopo Tolkien, però noi vogliamo rimanere ignoranti e lo ricordiamo per i critici, va bene? Un colpo critico dovrebbe rappresentare un inaspettato colpo di fortuna da parte di chi lo mette a segno. Potrebbe rappresentare aver colpito un punto vulnerabile o una locazione particolarmente dolorosa del proprio avversario durante un combattimento. Per quei giochi che permettono il colpo critico anche al di fuori del combattimento, potrebbe essere un insperato successo in qualcosa che sembrava molto più difficile. Il personaggio per esempio potrebbe aver trovato una backdoor inaspettata che gli permette l'accesso a un sistema informatico in cui stava cercando di infiltrarsi, oppure di aver citato un argomento particolarmente efficace durante una prova sociale contro un altro personaggio. Potrebbe essere qualcosa anche di totalmente fortuito, come il provvidenziale passaggio di un'ambulanza a sirene spiegate proprio nel momento in cui il personaggio doveva muoversi senza far rumore per non farsi sentire dalle guardie. Andando fondamentalmente a rappresentare la fortuna all'interno del sistema delle regole, i colpi critici rendono molto meno prevedibili le prove e il loro compito è fondamentalmente quello di rendere le prove molto più difficili da calcolare matematicamente per i giocatori durante il corso e la stessa partita. Il gioco infatti risulterebbe molto più piatto se i giocatori potessero calcolare in maniera ovvia quale sarà la risoluzione di una possibile azione, soprattutto in quei momenti in cui fondamentalmente il loro successo è automatico o la loro disfatta è assicurata. C'è molto più brivido nello sperare di uscire miracolosamente da una situazione se la buona sorte soffia sui dadi e anche a mette molto pathos il fatto che indipendentemente dalle proprie difese si sa che è sempre possibile essere colpiti e feriti durante un combattimento. Alcuni regolamenti per ampliare questi effetti nei giocatori non si limitano a far colpire automaticamente con un critico o far infliggere più danni con un critico ma implementano effetti molto più complessi. Molti giochi hanno vere e proprie tabelle dei colpi critici in cui in caso di colpo critico vengono casualmente determinati effetti di stordimento, riduzione del movimento, riduzione delle caratteristiche o anche effetti molto più permanenti come amputazioni di arti e amenità del genere. Il fatto che ai giocatori piace il brivido del critico la situazione di poter fare qualcosa che normalmente non potrebbero perché hanno avuto fortuna sui dadi fa dimenticare a molte persone che in realtà la regola del critico non è affatto favorevole per i giocatori. Statisticamente infatti i personaggi sono soggetti a molte più prove rispetto a quelle che eseguono. Molto spesso infatti i giocatori sono in inferiorità numerica rispetto ai nemici che vanno da affrontare e anche nei casi in cui non lo sono è perché i nemici che stanno affrontando sono già di per loro molto più grossi, molto più potenti dei loro personaggi. Per tutti questi motivi un personaggio subisce molte più prove rispetto a quelle che effettua sugli altri. Di conseguenza, proprio per mera statistica, è molto più probabile che i critici avvengano sui giocatori che non dai giocatori verso i loro avversari. Se non avevate mai fatto mente locare sulla cosa vi lascio qualche istante per riflettere su cosa sia l'orrore che questo significhi. E' per questo motivo infatti che molti giochi di ruolo, principalmente tra quelli che hanno un sistema di combattimento molto più crudo, molto più letale di quello del D20 System, mettono delle limitazioni al critico. Alcuni rendendo una prerogativa solo dei personaggi giocanti. Altri usando un sistema più ibrido in cui è permesso il critico ai giocatori e anche ad alcuni PNG particolarmente importanti, i PNG con nome all'interno della trama, non ai PNG qualunque, alla maggior parte degli avversari che vengono normalmente massacrati durante le quest. Per questo video è tutto, spero di avervi dato non solo informazioni sul critico ma di avervi spinti a riflettere anche su quelle regole che noi fondamentalmente diamo per scontate e non ci fermiamo ad analizzare né durante le partite né durante lo studio di un manuale per preparare le sessioni. O quantomeno avervi dato qualcuno contro cui sbraitare la prossima volta che subirete un critico dritto nella faccia. Mi piacerebbe sapere se utilizzate i critici nelle vostre partite, cosa usate, se usate regolamenti che non li prevedono, o se vi è mai successo di cavarvela per il rotto della cuffia grazie a un colpo critico o di fallire miseramente per un colpo critico ricevuto. Io sono il Master Kai e noi ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutti!